Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se due gemelli intraprendessero viaggi spaziali a velocità prossime a quella della luce? Come influirebbe il tempo su di loro? Oggi esploreremo il paradosso dei gemelli e il suo legame con la relatività e i viaggi spaziali. Restate con noi per scoprire come la teoria della relatività di Einstein cambia tutto ciò che sappiamo sul tempo e sullo spazio. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui nostri prossimi video. Iniziamo con il concetto di base del paradosso dei gemelli. Questo paradosso è una conseguenza affascinante della teoria della relatività ristretta di Albert Einstein, pubblicata nel 1905. Secondo la relatività, il tempo non è un'entità fissa e universale, ma può variare a seconda della velocità alla quale un oggetto si muove. Immaginate due gemelli, Alice e Bob. Alice rimane sulla Terra, mentre Bob parte per un viaggio spaziale a bordo di una navetta che si muove a una velocità molto vicina a quella della luce. Quando Bob ritorna sulla Terra, scopre che Alice è invecchiata molto di più rispetto a lui. Questo è il paradosso dei gemelli. Il tempo per Bob è trascorso più lentamente rispetto a quello di Alice. Curiosità. Questo effetto di dilatazione temporale è stato confermato da esperimenti reali. Gli orologi atomici sono stati posti su aerei e, una volta rientrati, sono risultati leggermente indietro rispetto agli orologi sulla Terra. Questo dimostra che la relatività non è solo una teoria, ma ha effetti misurabili nella realtà. La relatività ristretta afferma che il tempo si dilata cioè rallenta per oggetti che viaggiano a velocità prossime a quella della luce. Questo significa che per un osservatore in movimento veloce, il tempo passa più lentamente rispetto a un osservatore fermo. Questo effetto diventa sempre più pronunciato man mano che la velocità dell'oggetto si avvicina alla velocità della luce. Curiosità. La dilatazione temporale non è solo un concetto teorico. Gli effetti della relatività ristretta sono considerati nel funzionamento dei sistemi GPS. I satelliti GPS orbitano la Terra a velocità elevate e a quote elevate, e i loro orologi devono essere sincronizzati tenendo conto degli effetti della relatività per fornire posizioni precise. Ma perché questo accade? La spiegazione si basa sulla famosa equazione di Einstein, è uguale Mech quadrato, che dimostra come l'energia e la massa siano interconnesse. Quando un oggetto accelera verso velocità molto alte, la sua energia cinetica aumenta e questo influisce sul modo in cui il tempo scorre per esso. Più velocemente si muove un oggetto, maggiore è l'effetto della dilatazione temporale. Curiosità. Una delle implicazioni più interessanti della relatività è il concetto di, paradosso dei gemelli. Immaginate ora di avere una navetta spaziale in grado di viaggiare a una velocità vicina a quella della luce. Se la navetta partisse e tornasse sulla Terra, gli astronauti a bordo avrebbero vissuto molto meno tempo rispetto agli esseri umani sulla Terra. Questo perché il tempo a bordo della navetta passerebbe più lentamente rispetto a quello sulla Terra. Nel contesto dei viaggi spaziali, questo paradosso solleva questioni affascinanti. Se un'astronave potesse raggiungere una frazione significativa della velocità della luce, gli effetti della dilatazione temporale diventerebbero molto evidenti. Tuttavia, attualmente, non possediamo la tecnologia necessaria per raggiungere tali velocità. I veicoli spaziali più veloci che abbiamo oggi, come le sonde interplanetarie, viaggiano a una frazione molto piccola della velocità della luce. Curiosità. Alcuni scienziati e ingegneri stanno esplorando teorie avanzate per possibili viaggi spaziali futuri, come la propulsione a vela solare o i motori a fusione. Sebbene siano ancora in fase di ricerca, queste tecnologie potrebbero un giorno permetterci di avvicinarci a velocità relativistiche, rendendo il paradosso dei gemelli una questione molto più reale. Ma come possiamo sperimentare il paradosso dei gemelli nella vita quotidiana? Sebbene non possiamo ancora viaggiare a velocità prossime a quella della luce, possiamo osservare effetti simili su scale più piccole. Ad esempio, i viaggi aerei commerciali a velocità relativamente alte e l'uso di orologi atomici ci danno un'idea concreta di come la relatività influisca sul tempo. In conclusione, il paradosso dei gemelli non è solo un affascinante esercizio di pensiero, ma una dimostrazione pratica di come la relatività ristretta modelli il nostro universo. Anche se i viaggi spaziali a velocità relativistiche rimangono una fantasia per ora, la comprensione di questi concetti ci aiuta a esplorare le possibilità future e a spingere i confini della scienza. Se questo video vi ha incuriosito e volete saperne di più su come la relatività influisce sulle nostre vite e sul nostro universo, lasciate un commento qui sotto con le vostre domande o osservazioni. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità dal mondo della scienza e della fisica. Grazie per aver guardato e alla prossima!